La nuova giunta del presidente della regione Rosario Crocetta avrà sei nuovi assessori, un vero e proprio governo bis che riparte sostituendo la metà dei componenti. Valutazioni politiche che ancora una volta non tengono conto di come gli ex rappresentanti di giunta abbiano operato, l'equilibrio che si cerca è quello tra partiti e così gli esclusi sono Dino Cartabellotta che ha gestito la delega all'agricoltura, Nicolo Marino che si è occupato di risorse energetiche, Ester Bonafede ex assessore al lavoro, Mariella Lobello che lascia la delega all'ambiente. Luca Bianchi ex assessore all'economia si era già dimesso poche settimane fa, torna a casa anche l'unico messinese della giunta Nino Bartolotta che si era occupato di infrastrutture. I nuovi sono Roberto Agnello, Giuseppe Bruno, Salvatore Callesi per le varie anime del PD, Antonio Fiumefreddo per i democratici riformisti, Nico Torrisi entra in quota Udc, Paolo Reale per articolo 4 ed i malumori mergono già nettamente e giungono da Messina quelli riguardanti la mancata rappresentanza del territorio, ieri il capogruppo dei DR a Lars, Giuseppe Picciolo, aveva chiesto pubblicamente un politico della città dello stretto nella nuova squadra di governo, oggi la conferma che nessun messinese affiancherà crocetta, Picciolo e Greco hanno convocato una riunione urgente per valutare gli atti conseguenti, le polemiche sono solo all'inizio.